La bellezza di gustarsi un grande vino toscano dipende a volte anche dall'annata. Se ci pensate bene le stagioni cambiano e ogni annata è sempre molto differente da quella che la precede. Quindi quando si va a scegliere la bottiglia di vino soprattutto da tenere, da conservare, da portarsi a casa, è bene sapere quali sono state le migliori. Non pescando nelle storiche 1955 o il 61, 1970 o la grandissima 75, veniamo a quelle più recenti che potete trovare nelle noteche, dal 99 c'è un bel filotto di annate, 99-2000-2001 con la 2001 veramente stellare e poi si va un po' per gusto. Se vi il 2005 è da consigliare, se vi piacciono quelli più tonici e ricchi la 2006. Nelle ultime sicuramente la 2010 è quella che ha fatto parlare tantissimo di sé, soprattutto a Montalcino, altre annate grandiosi la 2015 con questa ricchezza di potenza di frutto e la 2016 che ha una freschezza, una piacevolezza molto particolare. Una volta che avete trovato il vostro vino da conservare ricordatevi di conservarlo nel modo giusto, ovvero non in cucina, non in salotto a far bella mostra di sé, ma in una cantina, in un luogo che abbia una temperatura abbastanza stabile, non necessariamente fredda, un buon grado d'umidità e soprattutto la luce, perché la luce è un grande nemico del nostro vino e lo sottovalutiamo spesso. Se avete cura della vostra bottiglia vedete che un vino toscano può accompagnare tanti bei momenti della vostra vita. Compratene una cassa, lasciatelo lì e l'aprite ogni 5, ogni 10, ogni 15 anni. Il vino toscano è buonissimo da giovane, ma soprattutto a Montalcino e in tante altre zone può anche avere 20-30 anni di grande longevità.